allora meritato riposo dei nostri guerrieri dei nostri guerrieri ari vinci e si mangia tutto patate, kraudi, carne madonna sulla brascia e cartofel, la giornata è splendida la compagnia pure guardate quanta gente c'è che smangia questa è la fiera il nostro regista cosa dice? la luce c'è? i soggetti pure? un po' si parla anche tedesco stringiamoci un pochino, ci abbiamo anche amici venuti da lontano quante costa a questo posto mangiare? costa poco a me per questo pane mi hanno preso 25 euro ma la cammadosca, vuole sapere io? 25 euro sto panino ma come? a me 25 euro ma se matti, fatti quel posto eh? buon appetito bene guardate la nuova cintura giapponese ok